Torna a salire a marzo l'indice dei prezzi al consumo a Bergamo in crescita dello 0,4% rispetto al mese precedente. La variazione invece rispetto al marzo del 2011 si attesta più 3,2% in aumento rispetto alla 3,1% registrato il mese scorso. L'aumento più marcato, un più 1,7% rispetto a febbraio, si rileva nella divisione di spesa dei trasporti, con crescite di gasolio, benzina, pneumatici, voli nazionali ed internazionali. Segue poi la voce bevande alcoliche e tabacchi, con un più 1,2%, rialzi anche per la divisione delle comunicazioni, con un più 0,7%, nella quale risultano in aumento soprattutto gli apparecchi per la telefonia fissa, mobile e telefax. Salgono anche gli affitti privati, le spese condominali e il riscaldamento, con un più 0,5%, medesima variazione riscontrata anche nella spesa dei servizi ricettivi e di ristorazione. Lieve rialzo un più 0,2% per mobili, articoli e servizi per la casa, con crescite di tessuti per arredamento, biancheria per la casa, grandi e piccoli elettrodomestici. Identica la variazione per l'abbigliamento e le calzature, nella quale risultano in aumento soprattutto gli indumenti per i bambini. e i neonati. Calano invece le spese per la voce e ricreazione, spettacolo e cultura, dove sono in diminuzione apparecchi, accessori audio e video, giochi e hobby, servizi sportivi, giornali e pacchetti vacanza. In lieve calo un meno 0,1% la divisione servizi sanitarie e spese per la salute, dove influiscono soprattutto i prodotti farmaceutici, mentre resta invariato il comparto istruzione.